Renzo si trova coinvolto nell'assalto alla casa del vicario di provvisione l'11 novembre 1628. Vedremo come andrà a finire questo assalto e anche cercheremo di capire quello che nella realtà storica davvero è accaduto al vicario di provvisione. Manzoni ci descrive in maniera molto realistica il movimento della folla dalla corsia dei servi fino a Piazza Duomo e poi a Piazza Cordusio, laddove c'è la casa del vicario di provvisione, ritenuto responsabile dell'inalzamento del prezzo del pane. Manzoni utilizza un linguaggio molto variegato per parlare della folla. Il termine folla deriva dal verbo follare che significa pestare, comprimere il panno, che indica una moltitudine di persone che si è radunata in un luogo. Nel passaggio del capitolo noi troviamo tanti altri termini per sostituire il vocabolo folla. Manzoni utilizza il termine masnada, che nel Medioevo e all'epoca di Dante era vox media, poteva indicare un gruppo di persone sia con accezione positiva che negativa, ma che qui all'interno dei Promessi Sposi designa un gruppo di persone che si comportano in maniera violenta e disonesta. Ancora Manzoni usa il vocabolo tumulto, cioè un gruppo di persone che manifesta la sua protesta con clamore, con violenza e con disordine, o ancora il vocabolo turba o marmaglia, una quantità di persone raggruppate in maniera disordinata e mossa da intenti violenti, o ancora ciurma, vocabolo che è mutuato dal mondo della galea e indica un gruppo di persone ostile e spregevole, o ancora cozzaglia, che deriva dal verbo accozzare, cioè dal termine cozzo che significa colpo, e indica un gruppo di persone spregevoli e che si muove in maniera disordinata. Tutti questi termini non sono certo neutri, ma hanno in Manzoni una accezione decisamente negativa. Nel contesto le scene descritte e i vocaboli e i dialoghi palesano un giudizio decisamente negativo nei confronti di questa folla insorta che è incapace di un giudizio morale, è incapace di usare la ragione e di usare anche il buonsenso. La massa è spesso descritta con immagini o termini che sono prelevati dal mondo a cuore, o pensiamo ad esempio alla parola torrente, oppure dal mondo animalesco, come il vocabolo muggito. Manzoni ci rappresenta quindi un popolo che si muove in maniera disordinata, un popolo che è assetato di sangue ed è alla ricerca di un obiettivo su cui sfogare la propria rabbia e la propria insoddisfazione, e questo obiettivo è individuato nel vicario di provvisione. E Manzoni, che è molto sempre fine, sottile nella descrizione, individua due gruppi. Nella folla, quando ci sono le ribellioni, c'è sempre un gruppo che vorrebbe accentuare, diciamo, gli atteggiamenti e accelerare gli eventi, e che quindi vorrebbe subito uccidere il vicario, e c'è invece un gruppo che si vuole contrapporre a questa violenza, e vorrebbe bloccare i ribelli più accesi e più violenti. E Manzoni quindi ci descrive questa folla con termini molto precisi. Chi con ciotoli picchiava su chiodi della seratura per risconficcarla, altri con pali e scarpelli e martelli cercavano di lavorare più in regola, altri poi con pietre, con coltelli spuntati, con chiodi, con bastoni, con lunghe, non avendo altro, scalcinavano e sgretolavano il muro, e si ingegnavano di levare i mattoni e fare una breccia. Quelli che non potevano aiutare facevano un coraggio con gli urli, ma nello stesso tempo, con lo star lì a pigiare, impicciavano di più il lavoro già impicciato dalla gara disordinata dei lavoranti. E in mezzo a questa moltitudine lo sguardo del narratore si sofferma su un vecchio che vorrebbe crocifiggere il vicario, un vecchio che assomiglia a Caron di Monio, occhi di Bragia, a quel Caron di Monio che è il traghettatore delle anime, nel canto terzo dell'inferno. Questo vecchio è infatti descritto con una grande attenzione sui suoi occhi e nel contempo sulla sua canizie. Gli occhi sono infuocati proprio come quelli di Caronte. Scrive Manzoni, che è un grande ritrattista, spiccava tra questi ed era a lui stesso spettacolo un vecchio malvissuto che, spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogginio di compiacenza diabolica, cioè sembra un personaggio prelevato dal mondo infernale, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro granchiodi con che diceva di volere attaccare il vicario ad un battente della sua porta, ammazzato che fosse. Quindi il lessico stesso utilizzato da Manzoni è prelevato dal vocabolario dantesco. E la folla porta una, diciamo, scala, una scala che è descritta con l'espressione macchina fatale, una espressione che è prelevata dal secondo libro dell'Eneide, un libro che è una sorta di Iliade in formato tascabile, perché racconta in estrema sintesi la guerra di Troia. E la macchina fatale nel secondo libro dell'Eneide è proprio il cavallo di Troia che permette di dare accesso ai greci alla roccaforte imprendibile, proprio come la scala deve permettere di entrare nella casa del vicario, che sembra essere una roccaforte imprendibile. Infatti i servitori si sono asseragliati dentro, hanno chiuso tutte le porte, e il vicario si è nascosto nella parte più recondita della casa. E il fine narratore descrive quegli istanti del vicario come se valessero una eternità, perché il narratore entra all'interno della psicologia del personaggio, tanto che il vicario promette che se riuscirà a uscire vivo dalla sua casa non ricoprerà più alcun ruolo politico. Noi sappiamo poi dalla proseguo del racconto che soltanto l'arrivo del governatore permetterà al vicario di trovare salvezza, così come permetterà anche a Renzo di mettersi in salvo, perché Renzo aveva cercato di contrapporsi a quella folla inferucita, e quindi rischiava di essere anche lui linciato. Chi era davvero il vicario di provvisione nel 1628? La ricerca storica ci permette di scoprire che era un certo Lodovico Melzi, figlio di Luigi Melzi, aveva studiato giurisprudenza ed era entrato nel Collegio dei Nobili Giurisferiti e poi nel Collegio dei Sessanta Decurioni e la sua scalata nel mondo politico l'aveva portato a diventare luogotenente del governatore Gonzalo nel 1627 e nel 1628 era diventato vicario di provvisione. Nel 1629 a febbraio era stato indennizzato con 300 scudi e nell'aprile dello stesso anno aveva poi di nuovo ricoperto l'incarico di vicario di provvisione. Quindi si era in un certo senso di nuovo coinvolto nel mondo politico. Il personaggio manzoniano aveva promesso di non diventare più vicario, mentre nella realtà Lodovico Melzi divenne di nuovo vicario e addirittura vent'anni più tardi nel 1649 di nuovo venne insinito di quel incarico, ma soltanto la morte impedì a Lodovico Melzi di diventare per la terza volta vicario di provvisione. Come andò a finire la rivolta di Milano? Sappiamo dagli studi che soltanto quattro persone vennero giustiziate. Come mai soltanto quattro persone se la folla inferocita era così numerosa? Perché per quanto ci racconta il segretario del Senato Giovanni Battista Sacco la maggior parte dei rivoltosi era costituita da donne e da bambini, quindi vennero giustiziate in Piazza Vetra soltanto quattro persone.